Il lineago dice Aldo Navarro lunedì mattina sul quadrilano l'arena non riesce più a vincere 2 a 2 anche a Montebelluna con una prova però mi par di capire piuttosto Gagliarda cominciata bene con il gol di Fioretti in crocio dei pari quarto gioco a primo tempo la giocata spagnida di Nicola Valente il capitano che si ripete l'ottavo ancora Valente prova con il sinistro sul secondo palo la palla Sibila dall'altra parte della porta difesa da Rigo portiere del Montebelluna che va al pareggio con Severnini atterrato Cusinato dal dischetto il numero 6 del Montebelluna non fallisce l'occasione che porta i padroni di casa sull'1 a 1 il colpo di testa sul calcio d'angolo ancora l'Ignago pericoloso l'undicesimo sull'isviluppo appunto del calcio d'angolo poi 10 minuti dopo al ventunesimo c'è Giglio dall'altra parte che si prepara molto bene per una giocata che però è centrale ed esalta le capacità reattive di Fazzino area di rigore del Montebelluna con ancora Fioretti il diciquesimo pericoloso poi l'azione sfuma nonostante l'intervento alternativo intervento di Filippo Tanaglia ripresa con Viteritti che va al gol del 2 a 1 1-2 per il Ignago ovviamente un bel gol tra palo e portiere una bomba un destro di collo pieno niente da fare per l'estremo difensore del Ignago Fazzino Ignago però si distende al 31esimo trova un bellissimo gol che il gol del pareggio definitivo 2 a 2 con Fioretti una incornata di testa spettacolare niente da fare per la difesa del Montebelluna Lorenzo Zerbato per Adriano colpo di testa sul palo di competenza di Rigo che si difende poi però attenzione ancora a ciò che sciuppa Adriano a due passi dalla porta spalancata un peccato davvero un campione che non riusciamo a ritrovare 2 a 2 Ignago Montebelluna Vittoria finalmente dal Ignago contro il Ripa alla Finadora una vittoria pesante per la classifica per il morale perché si è visto un Ignago pimpante si sono visti anche i gemelli del gol Valente Zerbato al 100% credo di aver intuito da questa sintesi andiamo a vedere le immagini Valente Fioretti all'undicesimo quindicesimo c'è probabilmente Zerbato è coperto ma credo di aver individuato la sagoma del numero 7 Biancazzurro poi ancora Valente il destro limita l'area alto sopra la traversa della porta di De Carli Ripa alla Fedanola che soffre il Ignago volenteroso ancora Lorenzo Zerbato carica il destro prova centrale la palla rimbalza davanti al portiere De Carli che però vede la stessa scivolare sul fondo errore difensivo del Ignago ne approfitta cerca di approfittarne almeno Brotto al 37esimo ma è poca cosa il tiro è centrale e Fazzino fa buona guardia dall'altra parte il gol del vantaggio Ignagese c'è Emanuele Friggi su giocata di Valente e probabilmente il tocco di Livi Friggi che sul secondo palo mette palla alle spalle di De Carli 1-0 L'Ignago ripresa con Longato sul 2-0 il lancio di Zerbato per Longato che si guarda intorno vede che la sua posizione è regolare e non smette di correre verso la porta avversaria De Carli è battuto per la seconda volta L'Ignago 2 ripala fino ad ora 0 palla dentro di Gona per Rivi ancora tre soldi che non ci pensa un attimo la palla è sporca però prova lo stesso sinistro il numero 4 legnagese decimo di gioco ancora una bella giocata da L'Ignago con la possibilità per Rivi di battere a rete I piedi di De Carli impediscono il gol del 3-0 ancora azione convulsa davanti alla porta di De Carli che ha visto veramente i sorci neri domenica con Zerbato che non riesce a trovare in quadrale lo specchio della porta ultima giocata Zerbato e Fioretti ancora e ancora contropiede da L'Ignago sul 2-0 spazi praterie per i biancazzurri che provano a far male per la terza volta la palla finisce sul fondo ma è un bel L'Ignago finalmente una bella vittoria tre punti importanti Il quarto gol di Nicola Valente in campionato è decisivo per i ragazzi di Orecchia un punto portato a casa da Tamai e classifica che viene ancor più consolidata anche se ci sarà da lottare ovviamente fino alla fine Petris per Furlan c'è Fazzino Providenziale quattordicesimo al ventesimo vantaggio del Tamai con Zambon che serve una palla d'oro per Sellan che non ci pensa un secondo palla nel sacco vantaggio Tamai dopo poco più di un quarto d'ora di gioco sei più tardi Sellan e Furlan confezionano una bella occasione nitida da gol qui Furlan ha un controllo alla Ciccio Graziani palla lontanissima dal possibile piede sinistro quello decisivo per battere a rete Zerbato atterrato calcio e punizione Viviani non trova specchio della porta ripresa Fioretti e Rivi Fioretti palo palla in area arriva Rivi e ancora il portiere del Tamai Francescutti a trovarsi la palla tra le braccia la risposta del Tamai ventisesimo è nella palla del 2 a 0 che il numero 10 Zambon ha davanti alla porta del portiere Fazzino spreca così come avete visto ancora Legnago però con Longato servito bene da Fioretti il sinistro è debole poi calcio d'angolo Zerbato tre soldi e Friggi con uno di Friggi che ha palla buona di secondo palo palla alta sopra la traversa per il capitano del Legnago 49esimo di gioco ma non è finita Nicola Valente si procura prima un calcio di punizione poi lo batte alla sua maniera per l'1-1 finale credo giustificatissime le esultanze a fine gara dei ragazzi del Legnago 1-1 Tamai La vittoria è confortante quella di domenica del Legnago 3-2 contro Fontana Fredda sotto 2-0 poi la forza di recuperare e mi pare di aver intravisto anche una gagliarda volontà di stare nella partita di stare nel match di provare a vincere per risalire la china Adriano al nono di gioco risuscitato in questo match doppietta per lui la risposta di Alcantara Fontana Fredda l'undicesimo poi c'è ancora Legnago con questo calcio d'angolo palla in area di rigore ci provano un po' tutti ad arpionarla nessuno ci riesce andiamo un minuto più tardi al gol invece del Fontana Fredda Florian Roveredo e poi la testa di Alcantara per il gol dell'1-0 dei padroni di casa che mettono la partita sul binario preferito ancora limite dell'aria ci prova De Martin minuto 43 primo tempo ripresa ancora con il Fontana Fredda che riesce a realizzare il gol del 2-0 Ortolan Florian ha pizzicato palla ha scodelato palla per Ortolan gol del 2-0 al settimo risponde Legnago con Fregnazzo sinistro alto sopra la traversa 18esimo ancora Fontana Fredda pericoloso svarione difensivo del Legnago ci prova ancora il credo centravanti del Fontana Fredda il destro è parato a terra Cibulco la risposta da Legnago che riapre la partita con Adriano calcio d'angolo di Valente 28esimo Adriano 1-2 per il Legnago che va al pareggio ancora con Viteriti e questa è una bella giocata bellissima di Adriano che si coordina molto bene mette palla laddove il portiere Vicario e Fontana Fredda non potrebbe mai riuscire ad arrivare poi danza particolare del numero 9 il gol della vittoria del Legnago Friggi dentro per Gora di testa in corso dei pali niente da fare per Vicario chiude in avanti il Fontana Fredda 49esimo a palla per il possibile 3-3 ma Rovredo colpisce la traversa Legnago anche fortunato va bene molto bene così 3 punti contro l'ultima in classifica prendiamo il bicchiere mezzo pieno 3 punti in classifica vogliono dire 29 punti pari punti del Giorgione fuori dalla zona play out questo il bottino dell'Egnago domenica valente per Zambrano che trova Fioretti in area di rigore Fioretti non trova la zampata vincente la troverà più avanti Adriano al 25esimo non trova il tempo giusto per superare Poli portiere del Mori poi Poli che esce ancora Friggi prova un interno destro a giro non trova lo specchio della porta bravo però Emanuele a tentare almeno poi c'è un palo di Fioretti 41esimo di gioco sempre del primo tempo e ancora l'azione che insiste con Nick Valente per il destro di Ronconi su primo palo lì Poli c'è secondo tempo Fioretti e Valente secondo palo ma c'è la guardia attenta di Poli portiere del Mori Santo Stefano ancora Legnago che non ci sta e allora la palla arriva nel di rigore dopo questa giocata di Fioretti nessuno lì in mezzo riesce ad approfittare Viviani e Valente per la traversa del capitano Biancazzurro c'è deviazione ma è traversa piena palla poi che finisce sul fondo 18esimo di gioco al 22esimo il gol del vantaggio della vittoria del Legnago c'è Viviani Adriano e Fioretti che a tu per tu con Poli sforbicia in rete con il piattone destro gol dell'1-0 del Legnago sul Mori Santo Stefano ancora un'azione prima del brivido finale perché il Legnago quest'anno non si va a mancare assolutamente niente c'è una bella azione credo Viviani sicuramente il copo di testa di Emanuele Friggi l'ultima azione in calcio di punizione del Mori Santo Stefano guardate che pericolo ha pochissimo dalla fine per fortuna lì c'è Cibulco Saracinesca 33 punti di classifica il 2-0 al Mezzocorona saluta una posizione di classifica per il Legnago sicuramente più tranquilla di qualche settimana fa parte bene Mezzocorona questo destro nemmeno troppo importante del Mezzocorona poi il vantaggio Adriano che ma io mi auguro che lui abbia mirato esattamente l'incrocio dei pali opposto della porta di Zomer secondo me resta il dubbio è vero è un brasiliano insomma però questa cosa non mi pare proprio voluta sentiremo gli ospiti in studio la traversa di Alvani al 14esimo rischia a Mezzocorona di pareggiare qualche istante più tardi poi c'è un'altra traversa però l'altro numero 7 nella partita e cioè Lorenzo Zerbato che si coordina bene il corpo è però troppo indietro e la palla finisce la traversa la palla torna in campo poi Nick Valente non riesce a rimediare il destro da lontano di Manuel Caridi numero 10 del Mezzocorona viene deviato in calcio d'angolo da Cibulco 31esimo 42 di gioco del primo tempo Nick Valente con i piedi la risposta del portiere del Mezzocorona Davide Zomer ripresa con ancora Valente ben lanciato in area di rigore sbaglia il primo aggancio il secondo gli viene perfettamente la palla è appena sopra la traversa il capitano con le mani tra i capelli Rivi il gol del 2 a 0 della tranquillità anche qua c'è molta casualità Rivi incoccia il pallone mentre è al momento giusto nel posto giusto ma sicuramente non l'ha decisamente voluto questo 2 a 0 che però è importantissimo chiude Mezzocorona con una punizione che mette i brividi a Cibulco ma niente da fare tre punti Ivano Legnago vai Adriano la parla di un'altra godzino la parla di un'altra che s'è la mia l'altra Grazie. 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 chance per la Codiense con Mazzetto che procura una buona opportunità per Siega, la palla è sopra la traversa tre punti ancora per il Legnago, bene così Il Padova in Lega Pro il Legnago salvo che difende anche l'onore contro la prima della classe, giunta al Sandrini con seguito di pubblico, gara intensa molto bella con i giocatori di Legnago, di mister Andrea Orecchia che danno il massimo assolutamente, Cunico attraversa il settimo poi la risposta da Legnago con questa giocata, Adriano, Zerbato e Fioretti che piazza palla alle spalle di Petrovic per il gol del vantaggio Biancazzurro minuto 11 del primo tempo e Legnago in casa, già in vantaggio 1 a 0, un minuto più tardi Ilari e Petrilli confezionano una bella chance dalle parti di Cibulco che cerca di difendersi al meglio, poi la palla di Petrilli è sul fondo, per fortuna mezza girata al dodicesimo sedesimo c'è ancora Ilari e Cunico con una bella tentativo, lo vedete il primo è difeso dalle parti meno nobili della difesa dell'Egnago la seconda è controllata controllata da Cibulco la risposta dell'Egnago in questo bel tiro cross di Lorenzo Zerbato sul quale Adriano non ci arriva venticinquesimo due più tardi Zubin che fa un lavoro sporchissimo ma molto prezioso là davanti per i biancoscudati lancia in profondità Petrilli che questa volta non sbaglia Nicola Petrilli classe 1987 diagonale a Soterra che va a battere Cibulco per il vantaggio dei biancoscudati 1-0 ventinovesimo c'è Longato che ha una buona chance alla limita dell'aria tiene molto bene basso il pallone nel dubbio Petrilli ci mette in calcio d'angolo Nicola Valente apprezzato anche domenica guardate il controllo del prono è sempre vicino al corpo e poi il destro in atteggiamento da perfetto calciatore lo possiamo dire scuola del calcio quella di Nick Valente si arrabbiano tra di loro i centocapisti del Legnago non arriva palla giocabile non ci sono compagni che si muovono alla fine viene fuori questo bel destro dal limite dell'aria è minuto 47 del primo tempo ripresa con il calcio di rigore per questo fallo di mano netto nettissimo di Emanuele Friggi sul secondo palo dal dischetto va il numero 10 del Padova Cunico Marco Cunico esperto Marco Cunico classe 1978 per il gol su rigore del 2-1 sarà anche il finale di gara l'ultima azione è giocata Valente Longato e Fioretti Legnago che però è rimasto in partita fino alla fine bella prestazione contro una squadra davvero che quest'anno ha fatto la differenza nel girone C della Serie D mai 0-0 più soddisfacente per il regnago di mister Andrea Orecchia di Dore Generale Mario Preto lo 0-0 in Trentino contro il DRO vale la permanenza anche l'anno prossimo in Serie D un traguardo a metà campionato difficile da prevedere e invece con pazienza con calma con l'esperienza di chi il calcio lo conosce mi riferisco soprattutto alla dirigenza e in particolare al direttore generale Mario Preto con calma il Legnago si è ritrovato ha ritrovato anche il suo condottiero la sua guida Andrea Orecchia e tutto è tornato nei canoni di una tranquilla salvezza abbiamo visto qualche immagine al secondo e al quarto poi c'è Cremonini per Ciccutini area di rigore controlla molto bene il portiere del Legnago Cibulco 31esimo Legnago con Longato e Gona la palla in mezzo all'area di rigore gira Longato poi arriva Gona prova a piazzare il destro sotto la traversa si immola la causa un difensore del DRO Fioretti minuto 46 sempre di questo primo tempo la giocata sulla sinistra e poi palla in mezzo per Fioretti che è ben appostato altezza del dischetto del calcio di rigore il copo di testa è mirato preciso ma Francesco Bonomi portiere del DRO fa buona guardia intanto miriamo l'impianto di DRO vabbè lasciamo perdere intanto da lontano ci prova al 23esimo Viviani dopo uno scambio con Adriano siamo già nel secondo tempo punto 23 della ripresa due più tardi c'è Zerbato ancora e Viviani che confezionano insieme una bella chance e Lorenzo Zerbato sul dischetto del calcio di rigore per Viviani che spara altissimo sopra la traversa Aidarowski Ciccutini e colpo minuto 34 buona chance per il DRO eccola qua la palla per colpo che non aggancia sempre dal dischetto del calcio di rigore l'ultima azione è per il Legnago che chiude in avanti 35esimo di questo secondo tempo ma è 0 a 0 salvezza tutti contenti bene così per il Legnago contro la Sicilese 3 a 2 il vantaggio della formazione di casa con Bomber sotto via Dario sotto via classe 1989 sempre in grado di fare molto male parte però bene il Legnago al decimo manganotti per Viviani palla tenuta bassa ma centrale para Favaro portiere della Sicilese limite dell'area sotto via è l'uomo delle palle vaganti là dove c'è una palla vagante c'è un minimo di spazio non perdona in questo caso a farne le spese è Cibulco 12esimo di gioco del primo tempo e Sicilese Bianco Rossi in vantaggio 1 a 0 la risposta del Legnago in questa giocata Viviani Fioretti con Fioretti che trova deviazione sul tiro di destro dal limite dell'area ancora Legnago al minuto 18 Tanaglia Fioretti e Ronconi che ha un'ottima chance per il gol del pareggio poi arriva il gol del pareggio con Friggi in area di rigore per Rivi di testa palo lontano della porta di Favaro niente da fare il gol dell'1 a 1 36 gioco del primo tempo tra i più tardi c'è Sottovia che ci prova ancora limite dell'area prova il sinistro ciabattato in questo caso cerca Langorino Rasoterra ma Cibulco è attentissimo 41esimo di gioco però arriva il gol del 2 a 1 dei Biancorossi ancora Sottovia ancora una palla vagante ancora il difensore che fatica a tenere l'ombra del centroavanti Biancorosso ed il gol del 2 a 1 ripresa al quinto il gol su rigore atterrato Beccaro da Viviani 10 contro 10 al dischetto va lo specialista Baggio niente da fare per Cibulco portiere da una parte palla dall'altra 3 a 1 per la Sacilese che cerca di incrementare il vantaggio al minuto 11 con Beccaro fa tutto molto bene però sco coordinato e comunque sbilanciato riesce a tenere il pallone nello specchio della porta ma il suo alternativo troppo centrale capolavoro ancora di Nicola Valente palla che rimbalza davanti a Favaro minuto 23 della ripresa per il gol del definitivo 3 a 2 della Scilese contro il Legnago Legnago salvo perde in casa dalla Triestina dalla storica formazione della Triestina mi pare però di vedere insomma già un clima molto sereno nonostante il grande impegno anche Adriano in campo parte subito Gusella e Rocco la Triestina con questa traversa per calcio di punizione sempre della Triestina parato a terra dal portiere del Legnago Cibulco e poi al minuto 13 c'è Rivi e Zerbato che confezionano questa bella chance anzi è Zerbato palla per Rivi che si gira ma è centrale e fa fare bella figura a portiere della Triestina Zucca il gol del vantaggio della Triestina spinta con i puni di Cibulco sui sviluppi di un calcio d'angolo poi ancora palla in area con il forse anche c'è un falo di mano del numero 5 della Triestina Giannetti palla Riva a Rocco che non ha problemi da quella posizione a battere Cibulco per l'uno a zero minuto 23 ancora Triestina con Bedin area di rigore si gira però scivola sul piede di appoggio e la palla finisce sul fondo Valente e Zerbato la coppia di ex giovani ma sempre molto bravi il destro di Lorenzo Zerbato è parato in due tempi da Zucca e poi c'è Valente Falchetto e Adriano azione manovrata limite nell'area la palla in mezzo per la Zuccata di Adriano troppo telefonato è prevedibile questo tentativo del numero 9 brasiliano ottavo di gioco Rivi per il Legnago siamo sempre sul 1-0 per la Triestina centrale anche in questo caso fa buona guardia Zucca poi il sedicesimo c'è il gol di Adriano parte tutto da questa rimessa laterale là sul fronte offensivo sinistro dell'attacco del Legnago la palla in mezzo spizzicata appena da Rivi Legnago c'è secondo palo niente da fare per Zucca Legnago 1 Triestina 1 minuto 16 della ripresa Legnago pericoloso ancora minuto 23 con Nicola Valente che dopo avessersi preparato il sinistro lo scaglia dalle parti di Zucca però Zucca sa difendersi molto bene Rocco il contropiede un uomo solo là davanti fa una finta meravigliosa finta da una parte va dall'altra e quando si trova davanti a Cibulco lo beffa in questa maniera scaricando tutta la sua potenza del suo tiro nella porta sguarnita difesa insomma in qualche maniera da due difensori Biancazzurri 2 a 1 per la Triestina al 38esimo c'è Legnago ancora in avanti con Fioretti Viteritti e Adriano ma niente da fare vince la Triestina 2 a 1 grazie a tutti grazie a tutti